Anche da casa puoi scegliere il tuo futuro. Mi chiamo Francesco Aiello e sono uno studente del secondo anno al corso di laurea di Storie e Storie del mondo contemporaneo. Ho scelto questo corso di laurea per la mia forte passione per la storia e anche perché reputo importante lo studio della storia, del passato, per una maggiore consapevolezza del nostro presente e di quello che potrà essere il nostro futuro. Nei professori del nostro corso di laurea ho trovato molta disponibilità e nel rapporto docente-studente, elasticità e flessibilità, oltre che una notevole professionalità.